Coach Garelli, vittoria di carattere, diciamo che la parte del tifoso queste sono le vittorie più belle, com'è invece da detto ai lavori? Sono bella anche l'allenatore, sicuramente non è che neanche perché oggi abbiamo giocato con una squadra molto molto forte che si è visto con giocatori veramente bravi anche a legge delle situazioni che hanno sempre controbattuto alle mosse che noi cercavamo da fare sui due lotti del campo, quindi molto bravi e devo dire che poi oggi per la prima volta quest'anno siamo andati sotto sul fronte rimbalzi, abbiamo subito 12 rimbalzi d'attacco contro i nostri sette, cosa ripeto che per noi è inusuale e quindi siamo andati sotto anche nel numero complessivo di tiri, loro hanno tirato più di noi sia come tiri liberi che come tiri dal campo, a fronte anche di troppe palle perse, 23 contro il loro 21 che comunque sono tante anche il 21, ma diciamo che siamo stati un po' peggio sui rimbalzi, un po' peggio sulle perse e questo ci ha fatto tirare meno dal campo, cosa che ripeto quest'anno non era mai successo perché noi anche a fronte di percentuali da 3 molto basse avevamo sempre giocato la partita sul numero dei possessi, oggi questo non è successo e la cosa che ci ha salvato, oggi abbiamo avuto una percentuale da 3 e da squadra vera, abbiamo fatto 11 bombe tirando quel 38% che è la stessa percentuale loro, loro hanno tirato 39 ma ne hanno tirato 3 in meno, loro 8 e noi 11 e questo diciamo che alla fine, soprattutto nel finale, ha fatto un po' la differenza, però rimane il fatto che abbiamo fatto molta fatica in attacco perché loro alternavano queste zone match up che ci spezzavano tutti i giochi, quindi abbiamo dovuto fare alcune parti dei giochi rinunciando ad altre, abbiamo messo dentro un gioco che abbiamo fatto questa settimana proprio prevedendo questa cosa e fortunatamente è funzionato ed è stato quello che ci ha un po' smosso le acque, però detto questo è una partita molto tattica, molto dura, molto difficile, alla fine ne siamo venuti a capo e la cosa positiva è che non l'abbiamo mai mollato anche sulla loro rimonta quando sul più 13 si sembrava che avessimo scavato un soppo importante, loro sono tornati dentro e lì il pericolo era quello insomma di mollare un po' mentalmente, invece siamo stati bravi anche quando loro hanno messo il naso avanti a stare dentro la partita, secondo me è una bella vittoria, una partita simile play-off, anche se siamo solo a quarta campionato, però con tante mosse contro mosse, tante difese tattiche, tante situazioni che mi hanno ricordato un po' partite di play-off. Ecco, in un percorso di crescita della squadra quanto è importante a livello mentale una simile vittoria? Beh, le vittorie sono tutte importanti, è chiaro che abbiamo giocato contro una squadra buona, contro una squadra ambiziosa, contro una squadra con giocatori che hanno questo campionato e non hanno già vinto e quindi era una prima prova difficile, la partita scorsa in casa avevamo un po' cercato l'approccio e quindi c'era anche una sorta di curiosità per vedere come avremmo reagito alla seconda partita in casa e devo dire che l'approccio anche mentale è stato un po' complicato perché comunque loro fin da subito hanno giocato in maniera molto tattica e quindi bisognava ragionare molto e a volte non è semplice quando sei sotto pressione, però ripeto, era una partita che sapevamo essere molto difficile perché insomma Stani, Ceverli, Cent'anni, Papa, Fasson, tutti giocatori che o da un punto di vista fisico o da un punto di vista tecnico o da entrambi sapevamo che ci potevano mettere in crisi, così è stato, in certi momenti della partita abbiamo subito uno, in certi altri momenti l'altro e quindi insomma siamo stati bravi, ripeto, anche a controbattere minuto dopo minuto sempre a quello che succedeva sul campo e ai problemi che loro ci ponevano dalla parte del campo difensivo, quindi direi bene da questo punto di vista.